Ciao siciliana. Buonasera ufficio del rappresentante siciliano a Roma e della Maghera. Buonasera, io sono sempre da Roma, però io sono un siciliano, di San Fratello precisamente. Ora vado a inviare il Pinturicchio numero 40, come lavoro. Dica, 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 io ho una giorniola, mi dica. Ah sì, io non so come devo fare da questo condominio, ce l'hanno tutti con me, ci faccio antepatia a tutti, mi dicono che faccio puzza, ma come mi devo comportare? Ma quale condominio? Il condominio dove abito io? In Viale Pinturicchio a Roma. E io cosa devo fare? Un ufficio di rappresentanza siciliana, aiutati i siciliani. No, noi non aiutiamo i siciliani, questo è un ufficio a livelletta di Presidente e Presidente. Allora ha sbagliato il numero, mi hanno dato un numero sbagliato. No, il numero è questo, però non trattiamo questi argomenti. Ma scusa allora. Prego. Arrivederci.